ciao bambini mi rivolgo in particolar modo ai bambini di prima a di via polesina oggi parleremo di geografia e in particolar modo parleremo dello spazio la parola spazio ha diversi significati devi lasciare spazio per i giochi di tuo fratello teo vuole mettere un libro nella libreria ma non c'è più spazio vediamolo meglio uno spazio può essere la casa ovvero la tua casa quindi lo spazio che tu abiti insieme alla tua famiglia ma uno spazio può anche essere la tua scuola che frequenti insieme ai tuoi compagnetti lo spazio può essere pubblico o esterno privato o interno vediamo insieme quali sono gli spazi pubblici o esterni uno spazio pubblico esterno può essere l'ospedale oppure il parco dove vai a giocare insieme ai tuoi compagni la scuola che frequenti insieme ai tuoi compagni o ancora il cinema gli spazi privati o interni sono la tua casa la casa dei tuoi nonni oppure ancora la casa dei tuoi compagnetti vediamo insieme quali sono le paroline che ci aiutano ad orientarci nello spazio vicino lontano sopra sotto aperto chiuso destra sinistra interno esterno dietro davanti buono studio